Dolore alla zona lombare? Ecco una routine in due versioni, una di livello 1 con i supporti e una di livello 2. Primo esercizio Cat Cow, inspirando in archi la schiena ed espirando con trai, sia a terra che in quadrupedia. Secondo è Down Dog, dalla posizione del canna testa in giù muovi il bacino a destra e sinistra, oppure sdraiato muovi le gambe avanti e indietro. Half Split, in questa versione andiamo a muovere la gamba verso l'interno e verso l'esterno, in entrambe le versioni. Lo Lounge, l'affondo, per andare ad allungare lo psoas. Pigeon Pose, andiamo ad allungare l'esterno del gluteo, sia da sdraiati che appunto nella versione completa. Twist, le torsioni aiutano ad allungare la colonna. Mantieni ogni posizione per 5 respiri profondi. Salva questa breve routine, ideale soprattutto se hai piccoli disturbatori sempre pronti fuori dalla porta.